Invecchiare fa schifo, non puoi farci niente, l'età si fa sentire, non riconosci la faccia, perdi la vista, ti alzi e accidenti, ti fa male la caviglia, per questo ho chiesto a mio figlio Anthony di organizzare la mia eutanasia, per quando sarò pronto, ho già anche fatto testamento affinché la mia eredità non si trasformi in motivo di contesa tra i miei discendenti, dopo una certa età si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali, iniezioni e così via. Grazie